Siamo al Colle di San Zeno a cavallo tra la Valle Camonica e la Valle Trompia e adesso partiamo per il Rifugio Medellet, qui siamo a quota 1430 metri circa e bella giornata sembrava che oggi fosse un nivoloso ma è uscito un bel sole bellissimo questo, molto bello si poi adesso ti dicono 200 metri dritto poi tu arrivi dritto e via qui c'è quello là in fondo è il passo della Pontogna e sotto c'è il riforme di Ponte Fugio Valtrompia quella lì poi c'è la Marga Puntonia si sta bene, i fungaioli che stanno cercando questi sono posti di funghi guarda che meraviglia no ma qui ce ne sono veramente guarda che bella e lì sono i paesini della Val Camonica quella là in fondo è la Val Camonica di Ponte di Ponte di Ponte questo è il suo tempo di Ponte di Ponte He met with Captain Barrow and some money he was captain He first produced his pistol and then produced his rapier Said stand and deliver or the devil he may take ya Musha ring of a jubilmata It is the casino of Gale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti